L'anello di Re Salomone sta scritto che il Re Salomone parlava con i quadrupedi, con i pesci e con i velmi. Anche io parlo con gli animali, seppure non con tutti, come sempre facesse il vecchio Re, ammetto la mia interventà, pure il linguaggio delle questioni con cui aveva maggior dimestibilità. E quando non aveva più il suo anello, il suo cuore persino, in questo anzi io sono superiore a te il Re che senza il suo anello. Grazie a tutti.